E' nel quartiere di Torbella Monaca, tra i palazzoni anonimi della degradata periferia romana, nelle aule dell'Istituto Comprensivo Melissa Bassi, che si è svolto il convegno Relive 2020, in programma nella Capitale dal 19 al 21 febbraio. Promosso dalla Società Italiana della Tecnologia e dell'Architettura, in collaborazione con l'Assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale, l'incontro, che coinvolge esperti e studenti under 40, intende raccogliere e organizzare idee, proposte e contributi di carattere analitico, metaprogettuale e progettuale, per il recupero architettonico, tecnologico e ambientale degli edifici del comparto residenziale R5, delle torri del comparto R8 e dell'M4 di Torbella Monaca. I presenti dovranno tener conto dei costi e dei tempi, oltre alle necessità degli abitanti che continueranno ad occupare gli alloggi durante tutta la fase di riqualificazione degli edifici. Le case popolari, che risalgono ad un'edilizia degli anni Ottanta, ad oggi mostrano diverse problematiche, dal punto di vista idrico e fognario e non sono adeguate a norme antisismiche. Al dibattito è seguito un vero e proprio sopralluogo lungo il perimetro dell'area interessata. È stato organizzato questo sopralluogo a due comparti dell'edilizia residenziale pubblica di Torbella Monaca, in particolare sono l'R5 e l'M4, che sono oggetto di una gara di progettazione, sostanzialmente, di un concorso di progettazione per trovare idee di ristrutturazione, quindi di riqualificazione di questi due comparti, dal punto di vista sia tecnologico e sia del risparmio energetico. Quindi questi professionisti che arrivano un po' da tutta Italia si cimenteranno nella progettazione di recupero di questi fabbricati, che ormai cominciano ad avere tra i 30 e i 40 anni di vita, per trovare una soluzione di rigenerazione, quindi di recupero edilizio, dell'edilizia residenziale pubblica, che a Roma e soprattutto nel quartiere di Torbella Monaca e del municipio Sesto ha un'entità abbastanza corposa, parliamo quasi del 45% delle case popolari di Roma. Atteso per un confronto più serrato, anche l'assessore all'urbanistica Luca Montuori.